Ciao! Iniziamo questo, diciamo, inizio 2018 per un po' dirvi cosa è successo, cosa non è successo. Non sono sparito, diciamo che ho fatto dell'altro. Diciamo che non sono nato su YouTube, sono nato per fare qualcos'altro. Quindi in questo, diciamo, passato 2017, ho fatto ben altro. Adesso vi dico cosa ho fatto. Nel 2017 precedente ho cercato di dedicarmi, non so se avete visto un po', a The Gale, appunto il cortometraggio che ho su questo canale. Ho cercato di dedicarmi un po', molto di più sulla musica, perché se lasciavo da parte la musica non riuscivo a fare più video su YouTube. Se invece facevo il contrario, è quello che è successo, insomma. Di conseguenza mi sono dedicato ai miei progetti. Tre anni fa, più o meno, ho creato un progetto solista. Mi sta portando molte soddisfazioni. Quest'anno, a fine... tra due settimane, esatto, tra due settimane andrò in studio e finalmente riuscirò a, diciamo, realizzare uno dei miei sogni. Metterò qua sotto il link alla pagina Facebook. Praticamente è un gruppo formato da me come chitarrista e compositore e altre due persone che mi hanno aiutato in tutto questo viaggio. È un progetto metal, soprattutto death metal. Spacca. Cioè, quello che dico io, solamente spacca. Poi, ovviamente, presto sentirete qualcosa. Purtroppo ho avuto un po' un attimo il gruppo con cui giro normalmente, gli Smoking Bulbs. Abbiamo avuto un po', non da dire ovviamente, abbiamo avuto un po' di difficoltà perché il nostro batterista, appunto, se n'è andato. Ovviamente aveva altri progetti, quindi giusto così, insomma. In personale, ovviamente, non ho niente a che fare con la band, insomma. In conseguenza ci siamo un attimo fermati. Adesso, nel 2018, tra virgolette, torneremo. Vi ho lì, ve lo dico, soprattutto alla gente che interessa, appunto, quello che faccio a livello musicale. Diciamo che quello che farò in questo 2018 sarà tutta una cosa dedicata esclusivamente alla musica. Perché? Perché è quello che mi realizza di più. Non è che il canale non mi realizza. Il fatto è che in questo 2017 è successo un po' tutto un casino, anche con questa cosa dell'Ad Apocalypse, quelle che ti sottrai, diciamo, tu, cioè, vaffanculo YouTube perché ci hai rovinato completamente. Anche chi non ha un pubblico, diciamo, con tante persone, ci hai tolto ancora di più. Cioè, quindi, io se avevo poche visualizzazioni, con questo casino ne ho ancora meno. Quindi ti ringrazio di cuore che mi hai aperto veramente il cuore. Mi hai aperto proprio un mondo verso la realtà. Perché è giusto, per me, è giusto eliminare e sottrarre, diciamo, le visualizzazioni a chi magari o non se le merita o chi fa delle robe che non sono istruttive o che cazzo ne so. Cioè, qualsiasi cosa. Ma visto che a me piace questa... No, l'ho già tol contrario. Visto che a me piace questa, io ho dedicato di prendere andare. Comunque, in ogni caso, quello che posso dirvi è che su questo canale ritornerà ogni tanto qualche cover perché ho avuto anche problemi un attimo col computer, quindi mi si è proprio fulminato. E quindi ho preso il computer nuovo, ho fatto l'investimento, adesso ho la possibilità di montare, adesso ho la possibilità di avere una qualità audio migliore, e non quello lì, ma a livello di musica. Pian pianino, crescendo, si va. Avendo 28 anni, spero che nei prossimi 10 sarà sempre meglio, insomma. In questo 2018 farò anche l'ultima parte del cortometraggio che ho annunciato tanto tempo fa e vi metterò il video qui, se ce lo faccio, ma non penso perché non so neanche dove ce l'ho quel video lì, però in ogni caso ve lo metterò magari il link sotto, se volete andarlo a vedere. Che ho annunciato tanto tempo fa, ma sono passati anni. E il tempo passa inesorabile e noi invecchiamo. Ragazzi, cioè, è così. Sì, farò l'ultima parte, che praticamente la parte prima l'ho girata, la parte ultima l'ho girata, che cazzo sto dicendo, il contrario, l'ho girata tutte e due, mi parte, mi manca la ciccia interna, quindi la parte interna che girerò, ovviamente anche lì aspettando un attimo, perché devo prendere vari strumenti per poterlo girare meglio, ovviamente. Per il resto, ragazzi, ho finito, perché non ho a fare outing, perché come avete ben visto, a me piace questa, quindi niente. Visto che adesso va di moda a fare outing. No, però, va bene. Io ragazzi, spero di vedervi ancora presenti su questo canale, anche se purtroppo pubblico poco e niente, perché ho trovato lavoro fisso e adesso ho un po' di adagiamento, riuscirò, diciamo, a combinare le cose, devo un attimo mettermi un po' lì e mettermi, dedicarmi a qualcosa. Prima ero sempre sotto il lavoro e non riuscivo a, cioè, mi dedicavo al lavoro e non riuscivo, come si dice, ad essere tranquillo, perché io volevo una situazione fissa. Adesso sono a posto e quindi cercherò di dedicarmi a tutto i miei hobby, di conseguenza anche YouTube, se ci riesco, ovviamente. Però, ovviamente, è quello che si può. Vi saluto, vi do un grosso abbraccio, spero che il vostro 2018 sia il migliore del 2017 e anche del 2016, perché si dice sempre che si fa speranza nel 2018 che sia sempre meglio dell'anno prima, ma vabbè, mi raccomando, comprate tanti sacchetti di plastica per la frutta, perché servono e serve, perché è un casino. Per il resto, ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Io vi posso dire solo così, io non posso dirvi, ci vediamo lunedì, ci vediamo martedì, ci vediamo fine settimana con un altro video. Purtroppo non ci si fa, non ce la fo io personalmente. Quindi, di nuovo, vi saluto, vi ringrazio di nuovo per chi sarà sotto questo video e per chi guarderà questo video, quei pochi, purtroppo. E niente, vi saluto, ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ragazzi, e buon 2018! Ciao, ragazzi, e buon 2018!